Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo già visto nella lezione precedente il concetto di lavoro e di energia cinetica, il teorema dell'energia cinetica che mette in relazione il lavoro, cioè l'effetto di una forza su un corpo in movimento, e la variazione dell'energia cinetica. Oggi vediamo un'altra forma di energia, legata alla posizione anziché al movimento, e la classe di forze ad essa associata. Vi ricordo la definizione di lavoro, il prodotto scalare di forza per spostamento, quindi modulo della forza, modulo o valore assoluto della forza, modulo o valore assoluto dello spostamento, indicato dal vettore D, per il coseno dell'angolo tra i due vettori. La presenza del coseno è quello che rende il segno del lavoro che può essere positivo, negativo oppure nulla, a seconda di quell'angolo. Abbiamo già visto anche la volta scorsa l'effetto, il caso del lavoro per un corpo che cade, quindi sotto l'azione della forza peso. Qui abbiamo, vi ricordo, la palla di massa M che cade verticalmente, quindi forza, forza peso, vettore blu e spostamento sono paralleli, l'angolo tra i due vettori è nullo, quindi il lavoro svolto dalla forza peso mentre l'oggetto cade, è semplicemente l'intensità della forza, massa per l'accelerazione di gravità, moltiplicata per l'entità dello spostamento. In questo caso sono tutte grandezze positive perché forza e spostamento sono paralleli ed equiverse, nessun problema. Mentre se sale si inverte il verso dello spostamento, quindi l'angolo diventa di 180 gradi e il lavoro è negativo e acquista questo meno davanti, come c'è qua sotto. Ok? Questo l'avevamo già visto, non ci sono domande su questo, mi auguro. Perfetto. Consideriamo un caso solo un pochino diverso. Immaginate la stessa palla di prima, anziché scendere verticalmente, immaginatela che scenda lungo un piano inclinato con una certa inclinazione alfa, quale che sia, ci importa poco. Quindi anziché andare da A a C, scende da A, dal punto A, verso il punto B. Ok? Immaginate H, l'entità dello spostamento verticale, quindi l'altezza del punto A, mentre adesso se cade lungo il piano inclinato, lo spostamento è il vettore AB. Il lavoro si calcola sempre nello stesso modo, il lavoro della forza peso, sto dicendo, quindi sarà dato dalla forza che agisce sul nostro oggetto, sulla palla, per lo spostamento che adesso diventa il vettore che va da A a B. Ok? Quindi abbiamo il prodotto scolare tra F e AB, che sarà l'intensità della forza F, per la lunghezza dello spostamento, quindi di questo triangolo rettangolo ACB, la lunghezza dell'ipotenusa, per il coseno, attenzione, dell'angolo teta, che non è alfa, che è quello di vertice A, per capirci, quindi non è indicato nella figura. Ok? La forza verticale, lo spostamento da A a B, l'angolo tra i due vettori, forza e spostamento, è l'angolo interno al triangolo di vertice A. La forza misura massa per accezione di gravità, M per G, vediamo come mettere in relazione lo spostamento AB con, per esempio, l'altezza del nostro triangolo rettangolo. Ok? Fin qui, niente di nuovo, una piccola differenza rispetto al caso precedente. La nostra palla scivola lungo il piano inclinato. Non c'è attrito per ipotesi. Ci siamo? Sì. Allora, se considerate il vettore F, il vettore forza, che in questo caso è il vettore peso, questo possiamo scomporlo in due componenti. Questo vettore blu, che è la componente del peso perpendicolare al piano inclinato, che viene bilanciata dalla reazione vincolare del piano, e poi il vettore qui indicato in giallo, che è la parte del peso parallela al piano inclinato. L'angolo tra la forza F e la componente perpendicolare misura alfa quanto l'inclinazione del piano. Quindi la forza F parallela al piano inclinato vale F per sen alfa. Lo abbiamo già visto a suo tempo, quando abbiamo studiato il moto lungo il piano inclinato. Analogamente, se questo è l'angolo teta, l'angolo in A, allora, per esempio, la lunghezza dell'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, che è il segmento AB, rispetto all'altezza H, che è il cateto verticale, verifica questa relazione, perché H è il cateto opposto all'angolo alfa, AB è l'ipotenusa, e per definizione di seno dell'angolo alfa, il rapporto tra cateto opposto diviso l'ipotenusa e il seno dell'angolo. Di conseguenza, il cateto opposto all'angolo alfa può essere calcolato come ipotenusa moltiplicata per il seno dell'angolo alfa, in questo caso. Mettiamo insieme i due ultimi osservazioni e possiamo vedere che il lavoro che la forza peso svolge mentre il nostro corpo scivola dal punto A al punto B, è espresso come F per scalarmente moltiplicato per il vettore AB, è dato da, per esempio, la componente parallela della forza lungo il piano inclinato, cioè F seno alfa, per la lunghezza dell'ipotenusa, AB. Ma AB, abbiamo visto che è H diviso seno alfa, se H è uguale ad AB seno alfa, AB è H diviso seno alfa. I due seni, seno alfa e seno alfa, si semplificano e quindi abbiamo F per H, cioè MGH. F, MGH. ditemi se vi è tutto chiaro, perché questo è un punto importante. Qual è il messaggio che c'è qua sotto? Questa espressione ci dice, ok, se la nostra palla scende lungo il piano inclinato dell'inclinazione alfa, il lavoro che la forza peso svolge sulla palla mentre scende lungo il piano inclinato non dipende dall'inclinazione del piano perché alfa non c'è più. L'angolo di inclinazione si semplifica, va via. Di conseguenza che le due situazioni la palla scende verticalmente oppure scende lungo il piano inclinato sono per quanto riguarda il lavoro è esattamente la stessa. Il lavoro svolto dalla forza peso lungo la verticale da A a C oppure lungo il piano inclinato da A a B comunque valgono MGH. per H cioè quello che conta non è l'inclinazione ma è il dislivello tra il punto di partenza e il punto di arrivo perché B e C sono la stessa quota. Questo se volete è una cosa piuttosto semplice. Però è molto importante, è un significato profondo che adesso vediamo. non è un caso voglio dire ecco ditemi se posso proseguire immaginiamo che la nostra palla sia arrivata in B e adesso si sposta da B verso C lungo questo tratto la forza peso e lo spostamento sono perpendicolari quindi il lavoro che la forza peso svolge sulla palla quando va da B a C è nullo perché forza e spostamento sono perpendicolari è tutto chiaro? riassumendo immaginate di considerare i due percorsi insieme la palla inizia il suo viaggio da A scende lungo il piano inclinato raggiunge B e poi si sposta in C quindi segue questo percorso A B C il lavoro svolto dalla forza peso lungo il tragitto A B C possiamo considerarlo come la somma del lavoro svolto da A A verso B più quello da B verso C ok? e quindi il totale del lavoro svolto dalla forza peso lungo questo percorso vale M per G per H come abbiamo appena visto quindi morale della favola che la palla cada verticalmente oppure vada da A a C passando prima per B non ha alcun effetto sulla quantità che esprime che esprime il lavoro svolto dalla forza peso lo ripeto A B C il lavoro svolto è MGH A C il lavoro svolto è MGH dove è esattamente lo stesso valore quindi se confronto i due percorsi il lavoro svolto per andare dal punto A al punto C non dipende da quale dei due percorsi la palla segue il lavoro è esattamente lo stesso è importante che riusciate a convincervi di questo ok questa è una proprietà è importante perché beh questa è una caratteristica legata in realtà alla forza è una proprietà della forza che agisce sulla palla posso esprimere la stessa cosa in modo tutto sommato equivalente immaginando un percorso chiuso la palla che va prima in B poi in C poi torna in A beh quando vada A a B a C compi il lavoro MGH quando vada da C verso A compi il lavoro meno MGH come abbiamo visto l'altra volta quando la palla sale quindi il totale è zero in questo caso ho che il lavoro svolto dalla forza peso sulla palla che compie un percorso chiuso un percorso chiuso è un percorso nel quale il punto di partenza e il punto di arrivo coincidono il lavoro è nullo ok sì certo tutto viene ripetuto nella diapositiva successiva se parto da A e torno in A il lavoro totale lungo l'intero percorso svolto dalla forza peso e zero che è equivalente a dire che se vado da A o verticalmente o passando prima per B il lavoro non cambia sono del due cose sono equivalenti una va implica l'altra e viceversa questa è una caratteristica della forza peso perché per esempio se la forza forse è di tipo diverso ad esempio l'attrito non ha questa caratteristica e questa è una caratteristica generale non dipende dal fatto che vado da A a C verticalmente o lungo il piano inclinato qualunque percorso io scelga per andare da A a C il lavoro svolto dalla forza peso dipende solo da dove sta A e dove sta B dipende solo dalla posizione quando una forza ha questa caratteristica cioè se il lavoro svolto dalla forza su un oggetto che si sposta dipende unicamente dalle posizioni iniziali e finali o equivalentemente se il lavoro svolto dalla forza lungo un percorso chiuso è zero indipendentemente dal percorso basta che sia chiuso questo tipo di forza prende il nome di forza conservativa c'è una caratteristica molto speciale la forza peso è una forza conservativa e ripeto questa caratteristica vale indipendentemente dalla forma del percorso prego è abbastanza semplice ma insomma dimostrare che questo risultato non è legato al fatto che abbiamo usato il piano inclinato si poteva usare però serve un pochino di matematica in più un percorso qualsiasi fatto anche in modo molto strano ma se tengo fissi il punto A di partenza e B di arrivo il lavoro che la forza peso in questo caso svolge sulla palla mentre va da A B non dipende da quale percorso segue ma solo dalla posizione di A e di B in realtà dal loro dislivello quando questo accade la forza prende il nome di forza conservativa quindi che io vada dal punto A al punto B seguendo il percorso 1 al percorso 2 il lavoro è esattamente lo stesso stesso numero di joule stesso segno stesso valore oppure equivalentemente se parto da A e torno in A con un percorso chiuso indipendentemente da quanto semplice o complicato il percorso il lavoro è sempre zero le forze che hanno questa caratteristica si chiamano forze conservative e sono una classe molto importante di forze è un esempio la forza peso andiamo ad analizzare un pochino più in dettaglio il lavoro svolto dalla forza peso per esempio se la palla cade verticalmente visto che abbiamo visto che il lavoro è indipendente dal percorso possiamo usare un caso semplice allora ripeto prendiamo un sistema di coordinate in questo caso verticale la coordinate orizzontale non ci interessa chiamiamo y la quota dei punti il corpo cade dal punto A al punto B quindi forza peso e spostamento sono identici quindi lo spostamento verticale sarà la posizione finale la quota di B meno quella iniziale la quota di A ok che ho messo anche il versore y il cappuccio sopra che è il vettore unitario che va verso l'alto quindi la forza F posso indicarla come meno mg y perché meno perché va verso il basso è orientata nel verso negativo delle y ok mentre lo spostamento da A B sarà la posizione del punto finale meno quella del punto iniziale lungo la direzione dell'asse delle y vi ricordo che l'y quel cappuccio sopra è un versore di modulo unitario è di lunghezza 1 serve per dare la direzione e il verso del vettore facciamo il prodotto scalare tra F e lo spostamento forza e spostamento e abbiamo meno mg lungo il verso di y per yb meno ya lungo il verso di y i due vettori unitari y moltiplicati l'uno per l'altro danno valore 1 perché sono paralleli e sono entrambi di lunghezza 1 quindi avremo 1 per 1 per 1 per il coseno dell'angolo tra i 2 e 0 ok togliamo le parentesi e andiamo a vedere com'è espresso questo prodotto scalare prego ok quindi ripeto tolgo le parentesi e quindi ho meno mg per yb meno ya quindi meno mg y più mg ya oppure equivalentemente mg ya meno mg di yb qui ho mg che è una forza newton per y che è una posizione metri newton per metri sono joule questa è una nuova forma di energia che non dipende dal fatto che l'oggetto si muova perché qui dentro la velocità non c'è c'è massa accelerazione di gravità che è una costante per posizione e come vedete il lavoro posso esprimerlo come la differenza tra questa grandezza nel punto di partenza a meno l'equivalente nel punto di arrivo b questa nuova forma di energia prende il nome di energia potenziale che cos'è l'energia potenziale l'energia potenziale è una forma di energia associata alle forze conservative legata alla posizione dell'oggetto un corpo ha una certa energia potenziale a seconda di dove si trova indipendentemente dal fatto che si muova o no e quando esprimo il lavoro in questo caso della forza peso ma in generale di una forza conservativa che agisce su un oggetto che si sposta da a a b questo posso calcolarlo come il valore dell'energia potenziale nel punto di partenza meno quello del punto di arrivo cioè l'opposto della variazione di energia potenziale delta u è valore di arrivo meno quello di partenza quindi davanti c'è un meno attenzione questa possibilità cioè il fatto di poter esprimere il lavoro come la variazione di energia potenziale cioè la funzione nel punto di partenza meno quello del punto di arrivo è speciale delle forze conservative se una forza svolge un lavoro che dipende dal percorso allora il valore del lavoro non sarà solo dipendente dalla differenza di due funzioni che dipendono dalla posizione ma anche da qualcos'altro quindi ripeto esiste posso definire la forza conservativa l'energia potenziale solo per le forze conservative facciamo un esempio terra a terra se io sposto immaginate di vedere la stanza dall'altra se io sposto un armadio da un punto a un altro seguo il percorso più breve perché? perché è quello dove faccio meno lavoro se invece seguo un percorso più lungo il lavoro è più grande quindi in quel caso il lavoro non dipende solo da da dove parto e dove arrivo ma anche da che strada faccio quindi la forza d'attrito non è conservativa ok? quindi non ha un'energia potenziale la forza e peso invece se questa è una caratteristica generale di tutte le forze di questo tipo se il lavoro svolto 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 dalla forza ripeto mentre un corpo si muove da A a B è indipendente dal percorso allora posso esprimere il lavoro come la differenza tra due funzioni calcolate nel punto di partenza e nel punto di arrivo e questa funzione si definisce energia potenziale quindi il lavoro vale meno delta U perché? perché per variazione del geopotenziale si intende il valore finale meno quello iniziale mentre il valore del lavoro è valore iniziale meno quello finale il contrario per questo c'è questo meno questo meno ha un'importanza fisica fondamentale ha un significato fisico profondo che adesso vediamo abbiamo visto nelle lezioni precedenti che non solo per le forze conservative ma per qualsiasi tipo di forza vale questa relazione il lavoro che la forza svolge quando l'oggetto si muove da A a B è uguale all'energia cinetica nel punto di arrivo meno quella nel punto di partenza cioè l'aumento di energia cinetica dove l'energia cinetica è un mezzo mv quadro ok mettiamo insieme le ultime due relazioni allora per le forze conservative il lavoro svolto dalla forza sull'oggetto che si sposta da A a B vale meno delta U la diminuzione dell'energia potenziale ma simultaneamente vale anche delta e C variazione di energia cinetica quindi le due grandezze devono essere equivalenti devono avere lo stesso valore ma se l'aumento di energia cinetica è uguale alla diminuzione di energia potenziale significa che la loro variazione totale l'aumento di energia cinetica più l'aumento di energia deve essere zero di tanto cresce una di tanto cala l'altra quindi la variazione della loro somma è nulla ma se ho qualcosa che non cambia significa che questo è costante cioè si conserva ecco cosa conservano le forze conservative conservano l'energia meccanica totale la somma di energia cinetica più indicata del simbolo ec più l'energia potenziale prende il nome di energia meccanica e questo se agiscono non è solo forze conservative è un valore che rimane costante durante tutto il mondo cioè l'energia si conserva questo prende il nome di legge o principio di conservazione dell'energia qui stiamo parlando ovviamente solo dell'energia meccanica che è la somma di quella cinetica legata alla velocità e di quella potenziale legata alla posizione nel caso che ci siano solo in azione solo forze conservative ok andiamo a verificare questa leggi laboratorio qui c'è il moto di una palla che cade verticalmente questo filmato che ho fatto diversi anni fa noi possiamo fare la video analisi che adesso ha velocizo l'analisi tracciamo il moto della palla e questa è la palla che sta accadendo si può visualizzare la legge oraria ecco questa è la coordinata verticale vedi ha un moto legge oraria è parabolica coordinate rispetto al tempo qui c'è rimbalzo poi risale il primo par del moto prima che tocchi terra ha ovviamente una forma parabolica è un moto uniformemente accelerato e tra le possibili grandezze che possiamo andare a analizzare si può questa è la velocità calcoliamo l'accelerazione la pendenza della relazione velocità tempo ma quello che mi interessa mostrarvi è questo serve per calcolare l'energia cinetica per l'energia potenziale si può definire la grandezza massa per g per quota che è la y e l'energia totale la somma di energia potenziale più cinetica qui avete il grafico dell'energia totale mentre la palla cade nella prima parte questo è il moto di caduta qui c'è il rimbalzo e qui c'è il secondo moto di salita in entrambi i casi sono rette abbastanza ben orizzontali a parte le incertezze della misura questo significa che mentre la palla si muove in aria la somma di energia cinetica e potenziale rimane costante durante il rimbalzo il totale dell'energia cala perché durante il rimbalzo agiscono forze interne non conservative che portano via un po' di energia meccanica che succede quando l'energia meccanica come in questo evento diminuisce o varia significa che sono in azione anche forze non conservative tecnicamente cosa significa significa che parte dell'energia meccanica iniziale viene trasferita in un'altra forma di energia che non è meccanica tipicamente energia termica cioè la palla si scalda è un po' come se io prendo le mani le estrofine una con l'altra tra le due c'è la forza d'attrito che trasforma l'energia meccanica del moto delle mani in energia termica perché le mani si scaldano e questo è tipicamente un effetto dell'attrito converte energia da meccanica in termica esempio applichiamo la legge appena vista è un caso relativamente semplice immaginate il moto di un pendolo abbiamo un pendolo lungo un metro con appesa una pallina di massa m e immaginate di scostare il filo dalla verticale di 30 gradi poi lasciamo andare il pesetto la massa m che comincia a oscillare d'accordo immaginiamo di poter trascurare l'attrito interno al sistema con con l'aria per esempio e calcoliamo la velocità della massa m quando passa lungo la verticale si trova nel punto più basso del suo moto è chiara la domanda in questo caso non posso utilizzare o meglio compio un'approssimazione molto grossolana se utilizzo le leggi del moto armonico perché perché abbiamo visto che l'oscillazione del pendolo è armonica solo se le oscillazioni sono piccole 30 gradi non è una piccola oscillazione diventa piccola se siamo sotto i 10 gradi qualcuno dice anche 5 quindi questo è il moto è sì periodico ma non è armonico ok quindi non posso utilizzare le relazioni viste a suo tempo in particolare per esempio il periodo del moto è influenzato dalla sua ampiezza però posso analizzare in moto utilizzando le forze che agiscono sul pesetto e le forze sono due ci sono la forza peso e la tensione del filo consideriamo alfa l'angolo l'inclinazione B il punto più in basso A il punto di partenza O il punto di sospensione la lunghezza del pendolo è un metro ok quindi la quota del punto di partenza è H quella del punto di arrivo è 0 prendo come origine delle coordinate verticali il punto più in basso nel punto A l'oggetto è fermo il nostro pesetto è fermo la differenza di quota tra il punto di partenza e il punto di arrivo questo dislivello H posso calcolarlo come la lunghezza dell'intero pendolo L meno la parte che va dalla quota di O alla quota di A che è L per il coseno di alfa la differenza tra i due ripeto è la quota H piccolo che nel caso specifico risulta essere circa 13 cm se non ci sono attriti qui il moto di M è soggetto all'azione di due forze quella peso che è conservativa e la tensione del filo ma la tensione del filo è sempre lungo il filo stesso e il filo è perpendicolare alla traiettoria quindi la tensione non svolge il lavoro perché forze e spostamento sono sempre perpendicolari siccome l'unica forza che svolge il lavoro è la forza peso ed è una forza conservativa allora posso affermare che l'energia totale meccanica nel punto A di partenza nel punto B di arrivo sono esattamente la stessa energia che si conserva ripeto siccome svolgono il lavoro solo forze conservative in questo caso la forza peso allora l'energia meccanica si conserva quindi il totale dell'energia meccanica nel punto di partenza e in qualsiasi altro punto durante il moto ha sempre lo stesso valore in particolare confrontando i punti A e B ma l'energia meccanica in A è la somma di energia cinetica un mezzo della massa per la velocità in A al quadrato più quella potenziale che abbiamo visto che per la forza peso è Mg per la quota H A in B è analoga Mv velocità in B al quadrato più l'energia potenziale Mg per la quota di B ok qui posso risolvere rispetto all'incognita che è V posso semplificare per la massa che si semplifica dappertutto e ottengo che la velocità nel punto B è in generale radici quadrata della velocità nel punto A al quadrato più 2 volte G per la differenza di quota se osservate è la stessa relazione che avrei se la palla cadesse verticalmente non importa che la traiettoria sia un arco di circonferenza se cadesse da questo punto a questo il risultato sarebbe esattamente lo stesso e questa relazione l'ho ottenuta applicando il principio di conservazione dell'energia perché lo posso fare? perché l'unica forza che agisce quindi che svolge il lavoro è la forza peso che è conservativa sostituiamo i valori che conosciamo la velocità in A in particolare è 0 la differenza di quota l'abbiamo vista e ottengo che in A nel punto più basso la pallina si muove con una velocità di circa 1.62 metri al secondo quindi utilizzare la legge di conservazione dell'energia mi permette di risolvere problemi che altrimenti non potrei risolvere perché non abbiamo cioè risolvere il moto utilizzando la legge delle forze richiede una matematica ben più complessa qui invece utilizzando l'energia meccanica in A e in B risolvo con la sola algebra ce la faccio tranquillamente quindi utilizzando l'energia meccanica ho la possibilità di risolvere in modo semplice problemi che altrimenti sarebbero piuttosto complicati proprio perché questo tipo di moto non è armonico ok ci sono domande bene quindi facciamo un altro esempio ma lo vedremo la prossima volta però adesso ci fermiamo un po'